bentornati su anime dal mondo e questo è il primo video del 2022 già bentornati qui sul canale di anime dal mondo io sono alex come sempre e anime dal mondo che è qui è qui per farvi vedere cose particolari sul modellismo sulle creazioni su quello che potete realizzare anche con cose di poco conto o meglio di con pochi soldi insomma cerco sempre di farvi risparmiare il più possibile se è possibile nel creare appunto i vostri progetti cosa dire siamo nel 2022 a mi viene quasi il groppo in gola per dicendo 2022 è fantastico perché non mi rendo conto e gli anni passano infatti in bianco come pochi ma intanto se volete continuare ad iscrivervi al canale e a continuare a seguirmi sui social qua sotto trovate tutto per seguirmi dappertutto quindi fatelo se volete rimanere aggiornati con tutti i questi video anche l'italiano nel 2022 è andato a farsi benedire lo so benissimo ma passiamo a quello che è l'argomento di questo primo video del 2022 dove vi faccio vedere una cosa che uso spesso per creare sfumature per creare sporcature ed è una cosa che costa veramente poco poi la trovate su amazon io vi lascio link qua sotto poi perché sono cose che in alcuni casi non ci si pensa ma bisogna pensarci perché bisogna risparmiare su questo in questo hobby perché tante cose costano magari non solo aerografo piuttosto che il compressore piuttosto che pennelli sono cose che purtroppo se le volete buone bisogna comunque spendere poi ci sono insomma delle alternative però effettivamente andando a prendere delle dei materiali dei componenti dei degli accessori e degli attrezzi buoni li spendete una volta e sicuramente ve li portate avanti per molto tempo di aerografi compressori e tutto quello che ne conviene anche di pennelli trovate le playlist qui sul canale quindi potete andarvi a vedere ma oggi parliamo di trucchi come avete visto dal titolo trucchi per modellismo si trucchi per modellismo non era proprio proprio sbagliata l'affermazione perché questi sono trucchi effettivi cioè sono proprio trucchi cioè sono degli ombretti si chiamano così sono degli ombretti vedete la palette colore di ombretti in questo caso io ce li ho di questi colori perché mi servono maggiormente questi colori ma ce ne sono di vario tipo e appunto sotto vi lascio il link perché usare questi perché ovviamente per le sporcature ci sono varie tecniche si possono usare i pigmenti più lasciarvi ho fatto anche un video sui pigmenti qui sul canale lo trovate sicuramente ci sono varie tecniche di lavature ce ne sono veramente tanti per fare sporcature o cose simili questa questa palette come altre molto simili molto economiche perché questa è molto economica appunto possono servire per darvi tutti quei colori e tutte quelle sfumature che magari non avete nel pigmento singolo perché il pigmento magari ce ne vuole tanto o meglio ve lo vendono in boccette con non poco pigmento e magari non lo usate spesso mentre con questi che sono colori molto pastellati potete usare questa tecnica per riuscire a fare le sporcature per riuscire a fare ombreggiature anche per esempio insomma potete fare un sacco di cose e adesso vi lascio a un mini ma proprio mini 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 tutorial su come usare questi qua ci sono due tecniche maggiormente usate almeno quelle che uso io vi lascio questo mini tutorial adesso andiamo a vedere sul tavolo come si fa e poi torniamo tra poco sempre a parlare di trucchi per modellismo facciamo un esempio pratico di come poter usare questi colori chiamiamoli colori questi ombretti penso si chiamino così insomma questa palette colori in sostanza potete usare qualsiasi cosa se volete che vi serva o meglio qualsiasi palette colore vi serva per le vostre creazioni in questo caso ci sono anche dei colori molto particolari ovviamente essendo dei trucchi da donna ma possono essere utilissimi allora il sistema per usarli è semplicemente questo perché questi sono un po' colori che si possono stendere un po come ci piace para noi e con questi colori si possono fare veramente un sacco di cose il consiglio che vi do subito è che questi colori vanno sicuramente bene dopo aver dipinto un modello in questo caso per esempio in acrilico perché l'acrilico è molto poroso e quindi riesce a prendere qualsiasi sfumatura e quindi aggrappare questi colori se invece volete qualcosa di più specifico meglio qualcosa di diverso potete usare anche semplicemente dell'acqua e fare dei pastrocchi come vi pare per esempio potete prendere io adesso metto qua l'acqua però potete prendere una ciotolina mettervi dell'acqua fare appunto intingere il vostro pennello possibilmente morbido e poi le misure le decidete voi a seconda però potete anche mischiarli con l'acqua per creare questi effetti bene avete visto come si usano questi palette colori ovviamente ci sono come vi dicevo prima dei colori particolari sono trucchi che possono insomma possono essere utili per truccare la faccia di una persona ma possono essere molto molto utili per realizzare ombreggiature rendere un po più realistica una vostra creazione e possono essere usati soprattutto quando si parla di superfici porose quindi già dipinte con l'acrilico parti in legno per esempio parti dove c'è del materiale poroso quindi non liscio perché altrimenti non attaccano per niente e quindi ve lo dico subito questi non attaccano su superfici lisce a meno che non usate appunto dell'acqua e insomma ci pastrocchiate un po sopra ma ci sono degli effetti molto diversi io vi lascio sotto il link di questa palette o di una simile bisogna vedere se ce ne sono ancora perché io ce l'ho da un po e vi lascio queste palette ed altre palette colori abbastanza economiche che insomma comprendono vari kit vari set di colori perché possono essere utili per qualsiasi cosa anche per le miniature pensateci non solo alle lavature ma anche a questi potrebbero esservi utile con i pennelli adatti quindi piccoli grandi o quello che siano l'importante è soprattutto anche se si possono usare quelle un po più rigidi ma che siano morbidi perché vi permette di fare più sfumature quindi io sono arrivato alla fine di questo video e vi dico che io con questi mi ci trovo bene questo video e meglio il primo video del 2022 termina qui ma ci vediamo nelle prossime settimane per un altro e altri video fantasmagorici per cui mi raccomando iscrivetevi al canale da alex e anime da bondo è tutto ciao